Sono Diana De Benedetti, rappresento Confartigianato nel Comitato per Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino. L'artigianato è un settore importantissimo per mantenere le nostre tradizioni e per sviluppare e mantenere il Made in Italy che è una delle parti più importanti della nostra economia. Poter rispettare queste tradizioni, mantenerle e soprattutto passarle alle nuove generazioni è una cosa fondamentale anche per la futura occupazione dei nostri giovani e soprattutto delle nostre donne. Il Comitato Imprenditoria Femminile parlerà proprio di questo in una serie di business talk che si svolgeranno prossimamente per l'importanza proprio dell'imprenditorialità nell'artigianato e nel trasmettere ai nostri figli i nostri mestieri.